Raffica di denunce in tutto 14 da parte dei carabinieri. Nelle ultime ore a Levane, una coppia, moglie e marito, lei sorella e amministratrice di sostegno di una disabile, sono stati denunciati per violenza privata e appropriazione indebita in concorso. I due si erano appropriati dei documenti di identità ed alta documentazione riconducibile alla disabile. Sempre a Levane, due uomini alla guida della loro auto in evidente stato di ebrezza alcolica hanno causato un incidente. Per questo sono stati denunciati e gli è stata ritirata la patente. Per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti è stato invece denunciato un 25enne e un 19enne alla guida di uno scooter. A Castelnuovo dei Sabbioni una truffa online ha messo nei guai due uomini che per vendere uno smartphone si erano anche finti carabinieri. Insolvenza fraudolenta l'accusa invece per una donna che i carabinieri di Terra Nuova Bracciolini hanno beccato in una tabaccheria mentre si faceva ricaricare la post-pay per poi allontanarsi senza versare il denaro. Sempre a Terra Nuova un uomo riconosciuto quale autore di un tentato furto in abitazione è stato denunciato. A Montevarchi invece una donna denunciata per furto. Lei di origini campane aveva manomesso un contatore del gas sigillato in quattro anni e aveva consumato circa 5.000 metri cubi di gas. Infine per ricettazione è stato denunciato un 25enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un nigeriano trentenne. L'uomo nei pressi della stazione ferroviaria di Montevarchi è stato trovato in possesso di 13 involucri di marijuana già pronti per la vendita.